Matteo, se posso passare la palla a te? Intanto ringraziando ancora l'onorevole Rutelli che ci ha raggiunto e che coinvolgeremo subito nel dibattito. Io direi, Matteo, proprio per rispondere ad alcuni di questi aspetti che ha menzionato anche Peter, quali sono oggi? Sappiamo del commissariamento dell'ENIT, sappiamo delle difficoltà anche a livello di budget specifico attribuito all'ENIT. Come ci si muove nell'ambito della promozione turistica, visto che molti di noi hanno una certa difficoltà a capire, come dicevo all'inizio, chi fa che cosa da un punto di vista di promozione del nostro Paese e come relazioniamo con operatori, ovviamente non solo Thomas Cook, ma con tutti i principali operatori che poi muovono decine di milioni di clienti. Grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io non vorrei fare una celebrazione dell'ENIT, sembrerebbe troppo partigiana, cerco di darvi così un'idea. Senz'altro la governance del turismo in Italia è, l'hai detto tu, iperframmentata, perché i 13.000 soggetti che credono di produrre in qualche modo promozione del turismo all'interno, all'esterno, quindi diciamo interno su interno, Italia su Italia oppure estero su Italia, sono il senso di un sistema tipicamente italiano, che non è necessariamente secondo me negativo. E' chiaro che per un ottimista come me dovrebbe essere un sistema da, come posso dire, da rimettere in quadro. Un po' anche l'ENIT. L'ENIT è un luogo, diciamo, costituzionalmente, un luogo di professionisti della promozione del turismo, in cui dovrebbero confluire le best practice, diciamo, oppure le migliori conoscenze, il know-how delle regioni e delle loro strutture. Questa è la Costituzione che lo dice dal 2002, la modifica dell'articolo 117, di cui Francesco Rotelli è un esperto evidentemente, anche perché è stato il più munifico dei governi verso l'ENIT, e questo va ricordato. E l'ENIT dovrebbe essere in mezzo a, diciamo, regioni e associazioni di categoria per la promozione del turismo, sulla promozione dell'immagine dell'Italia all'estero. Naturalmente l'ENIT ha, con il 2002, ha subito un ridimensionamento molto forte. Non è soltanto una questione, secondo me, di risorse, che comunque si stanno avviando a diventare critiche, e quindi mi riferisco ai circa 50 milioni di euro che rivenivano da una certa situazione, 2007-2008, ai circa 33 milioni di euro di oggi, con sostanzialmente dei costi di funzionamento che non possono variare. O che, diciamo, sono variati in virtù di una serie di blocchi del turnover, quindi, diciamo, di una teorica sempre posizione, diciamo, di sottostaff dell'organizzazione. Che comunque è un'organizzazione che, e qua ritorna fuori il mio ottimismo, è un'organizzazione che produce, che cerca di stare in questo sistema un po' complesso, con 26 sedi all'estero, divise a tre livelli, ma sostanzialmente, diciamo, degli uffici di rappresentanza attivi con le loro controparti sul territorio, e con un'organizzazione in Italia che, migliorabile o no, io non ho trovato male. Cioè, anzi, trovo che ci siano persone con una forte professionalità e un forte senso del, diciamo, del loro ruolo all'interno dell'organizzazione e del ruolo dell'Agenzia Nazionale del Turismo. Dal punto di vista della governance devo dire che l'Agenzia Nazionale del Turismo è anche giuridicamente un po' diversa, e qua approfitto di questa finestra che mi date per spiegare che il termine ente, anche giuridicamente, è passato. L'ENET, trattino, l'Agenzia Nazionale del Turismo, non ha più neanche giuridicamente le peculiarità di un ente, è una struttura più agile e giuridicamente più simile a una struttura di diritto privato, diciamo, quasi a una società. Io la chiamo azienda all'interno quando parlo con le persone che lavorano con me. La quale, questo è importante perché questa è una fase un po' delicata, la fase del commissariamento è una fase che a un certo punto dovrà atterrare, stiamo in questo volo, riatterrerà con una struttura, presumibilmente, con una struttura di governance leggermente snellita rispetto al passato. Prima era un luogo tipicamente italiano in cui si cercava di incrociare tutto. 16 consiglieri di amministrazione, con un consiglio di amministrazione che è assolutamente, diciamo, sovrano e con un presidente che è il legale rappresentante che, diciamo, si fa carico di attuare le indicazioni del Consiglio di amministrazione. Il futuro dovrebbe essere a nove membri, dovremo starci tutti e quindi ci sarà una fase, diciamo, secondo me di dialogo. Ma questo è, diciamo, quello che dovrà succedere, spero, presto. Quello che invece succede nella quotidianità è che le 26 sedi dislocate in tutto il mondo, che quindi parlano di Italia turistica, come possono, io ritengo, al meglio possibile. Dopodiché i numeri sono dei numeri, sì, i numeri e le considerazioni dei nostri colleghi stranieri sono delle considerazioni verissime, anche se io credo che l'Italia turistica sia ancora, vada letta ancora in un modo leggermente diverso, diciamo, non sono soltanto i numeri, è anche l'attitudine all'ospitalità che, secondo me, va considerata. Noi facciamo principalmente, investiamo, diciamo, il grosso, diciamo, circa 14-15 milioni di euro di promozione, che è un delta, diciamo, tra posizioni, tra posizioni finanziarie, lo investiamo principalmente in partecipazioni a fiere. Anche qui si potrebbe discutere sulla qualità, diciamo, della comunicazione, sulla miglior qualità della comunicazione. Io rilevo che comunque, praticamente, in media, le più grandi fiere del mondo, che sono una trentina, quelle che facciamo anche noi, in media partecipano 93 paesi stranieri. Allora, ogni volta che dicono che all'interno dell'Italia, perché l'Italia è un grande detrattore di se stesso, in tutti i sensi, in particolare nella governo del turismo, mi si annota che le fiere sono un modo vecchio di comunicare, io però, io che non ho, che generalmente ho qualche idea, non ce l'ho molto in questo campo, e questo campo, evidentemente, ha noto che i paesi stranieri, nelle fiere che facciamo noi, sono presenti minimo 37, massimo 187, cioè praticamente tutti quelli del mondo. Ha noto che, diciamo, abbiamo avuto 16 milioni di, in queste fiere abbiamo avuto 16 milioni di persone, di grande pubblico che è venuto a interessarsi, di terze parti che sono venute a interessarsi, di turismo. E altri numeri che mi dicono che, salvo idee straordinarie, un po' come nel mio mestiere, nella moda, ogni volta diciamo che le sfilate sono un modo vecchio di comunicare, ma un modo nuovo di comunicare effettivamente non c'è. Questo qua è l'Agenzia Nazionale del Turismo che cerca di essere in mezzo a un sistema nazionale in cui ci sono regioni che hanno delle logiche di un certo tipo e hanno professionisti eccellenti, ma che vanno, lì c'è il grande, la grande cassa passa da quelle, anche se il mio amico Mauro non lo dice, e non dal Levi. Finisco soltanto dicendo, ci sono regioni che fanno un certo mestiere e ci sono, diciamo, agenzie di promozione turistica, chiamiamole così, o istituzioni di promozione turistica locali, con taglio più o meno politico, che fanno un altro mestiere. Noi cerchiamo di essere in mezzo come dei professionisti, teoricamente come un professionismo che si rinnova e si deve rinnovare dall'interno, questo è il messaggio che voglio dare. Cioè noi dobbiamo cogliere, avere tutti i collegamenti con gli esterni, dobbiamo essere capaci e siamo rispettati anche dai nostri omologhi, così come siamo rispettati dai privati che utilizzano i servizi dell'ENIT. Io credo che in virtù di questa nostra esperienza, dopo 90 anni, dobbiamo creare, saper creare dei giovani che siano i manager dell'ENIT del futuro. Matteo, grazie.